Torna anche quest'anno la festa del Gran Turco, un evento per riscoprire le antiche tradizioni con tipicità locali, mostre e anche contest fotografico. L'estate canzanese non si ferma, continua anche con questa manifestazione del Gran Turco, promossa dall'associazione Antiche Tradizioni, che come ogni anno, come da ormai da qualche anno, continua a far conoscere le bontà del territorio e soprattutto una pietanza che comunque a Canzano è famosa. Quali sono gli eventi in programma per queste quattro giorni? Diciamo che siamo all'ottava edizione quest'anno della festa al Gran Turco, i programmi iniziamo da giovedì 3, 3 settembre, dalle ore 20 in poi fino a domenica 6. La manifestazione sostanzialmente si svolge a Villa Felice, in un parco all'interno di una bellissima villa, quindi una location eccezionale, dove vi facciamo assaggiare a tutti i nostri amici, visitatori, l'aspetto pecuniario, quindi le nostre specialità, iniziare dalla polenta e poi, come dire, facciamo anche tanta, tanta, tanta cultura con il concorso fotografico, quest'anno a premi, quest'anno ha aperto anche i più piccoli, quindi tutti i bambini della provincia di Teramo, della terza media, quindi dove devono fotografare le bellezze e la natura dell'Abruzzo e per arrivare poi alla domenica, dove facciamo proprio la vera rappresentazione del Gran Turco, cioè dallo scardazzare allo sgranare il Gran Turco, proprio come si faceva una volta con la Zappa, con questi antichi mestieri che ci hanno, come dire, in qualche modo insegnato i nostri genitori e i nostri nonni.